No, Silvia, ammusate. La mia squadra. Sono tutti bloccati di adagire un altro. La mia squadra invece di stare ad attaccare. I nemici stiamo facendo questa. Cari amici, benvenuti in questo nuovo video di War Thunder. Ed è che ci tornate su questo fantastico gioco free to play di cui vi lasciamo il link in descrizione se volete scaricarlo all'istante insieme al link di G2A per le ultime offerte. Questo è un aereo sovietico che ho scelto l'occasione perché è proprio ben tenuto. Sì, è uscito dal concessionario proprio. Ovviamente poi posso ricercarli per potenziare sempre di più sia la parte dei carri armati sia la parte dell'aereo. Mi piace molto questo gioco perché comunque riunisce insieme sia una parte di combattimento tra belivoli sia un combattimento a terra. Vi ringraziamo tantissimo perché nello scorso video ci avete avvertito che premevo il tasto della mitagliatrice costantemente. Questo non è una gran tattica visto che... Il pilota è ubriaco di burro birra. Colpisci lì, 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 lì colpatico sincronizzato alto che nuoto il nostro è volo sincronizzato calpiato guarda le frecce piccolore spinge il muso in giù e me non voglio andare in giù voglio andare contro questo tipo ci vai contro il tipo vai contro il tipo dai non ti manca tanto dai ci siamo credibile mai fare volo sincronizzato con me se sbagli una mostra perché ti tiro giù basta non dirglielo basta non dirglielo basta non dirglielo ok no non mi viene addosso addio non mi viene da quello non mi viene da quello la mostra lo fa hai capito ha sbagliato l'acqua è grazia non si va addosso a niente non si va addosso a niente non mi ha fatto inciampare a te poi a te poi ha fatto inciampare maledetto va bene comunque è cambiato aereo si l'ho cambiato è che l'altro come hai visto è andato vediamo se riesco a vittare sono tutte birce questi altri sono tutte birce non ho sparo le birce se per sbaglio becco le birce non le aerei pazienza eh a me non interessa basta sono birce in serio lo spero io l'ho detto per scherzare ma sono bianche vai vai colpisce un pochino l'ho colpito un pochino gira dove sei eccolo lì guarda lì come sta stagliandosi sulle birce è un protettore delle birce deve morire no no hai ragione a proteggerle sono carine dove sei dove sei il protettore di birce girati girati non ti schiantare lascia che sia io a ucciderti vi racconterò un aneddoto ogni giorno che la attraversa il corridoio passa davanti a un quadro dove è disegnata una birce e la do fuoco tutti i giorni quello è un quadro disegnato proprio su un pezzo di legno quindi pensa che non è di birù unità distrutta via professiona no ha tagliato l'ala ma mi sembra il caso cioè nel senso anche in macellare al momento mi taglio non è non è mi sembra il caso scusi è buon uomo non ero mica sul menù io non mi sarei mangiato io magari ti ho scritto no va bene questo è il mio ultimo aereo dopo di questo dopo di questo pazienza fate un po spuntare le ali io ogni tanto dovrei anche colpire i veicoli a terra perché lo scopo in realtà è distruggere i veicoli a terra uno si diverte lì a fare le coreografie ma bisogna anche ricordarsi di sparare a sti tipi no sparaci che sono altri disgraziati come te che stanno cercando di fare il loro lavoro vai spara i veicoli a terra su muoiono vieni qua ecco qua artiglieria l'ho colpita l'ho colpita distrutta ho fatto ho fatto danni anch'io ma allora so bravo distruggere anche questa no via ora torna un po più su per cortesi che non mi sembra il caso di buttarsi giù come un pischello bene dove sono le prossime qui c'è un'altra occultati via 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 guarda che bello avvitamento carpiato meraviglioso bene voi divertitevi io io vi distruggo queste mentre voi siete distrati vedi questi incendi sa cosa vogliono dire vuol dire che purtroppo non sei l'unico a pensare così questi cari armati sono i difensori delle betulle che però vengono abbattute agli aeree è giusto ecco c'è un tipo proprio qui davanti buon uomo buono sbricciatore buon uomo cosa ci fa qui muoia muoia buon uomo un attimo su per cortesia non stia qui a stare sveglio muoia non muore mi stai inceppato no no attento sei un po' in mezzo al fuoco tu lo so proprio credi di averlo inceppato un pochino perché mi sbaglio no stavolta non ho inceppato davvero dai dai comunque qualche danno l'ho fatto a meno un assist vera 3 secondi 2 1 e torna il mio il mio abitragliatore in funzione giusto in tempo per vederlo precipitare vai via precipitare sono a carico di 7 kg che combinato eh sì perché ho mangiato tante troppa carattigienica troppa carattigienica sta sullo stomaco vedo avete visto mi sono arrivati addosso degli artiglieri a pazzesca ah c'è anche la minimappa in alto a destra però eh c'è un tipo spara il tipo sparagli spari 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 dai un po' l'ho colpito un po' l'ho colpito mi passa là sotto eh pensava che non l'avessi visto ma se invece usciva di nascosto c'è che su un aereo missione copiuta missione copiuta vuoi morire scusi non vuole morire dai si schianti bravo bravo incredibile sei ancora vivo sono arrivato alla fine di una missione aerea non ci credi siccome non mi è mai successo non ci credi ho distrutto due aerei ho distrutto tre unità di superficie ho condiviso il mio panino la carattigienica con uno è buono poi ho fatto dei colpi credici ho fatto un po' di colpi vai è andata bene a lei è abbastanza sobrio salvo replay ovviamente se vi va potete scegliere di passare dalla parte aerea alla parte eh di battaglie terrestri c'è sia la modalità realistica che arcade io ovviamente vado su arcade perché realistica dovete veramente convincermi perché ah non me la sentirei mai allora che posso usare di bello posso usare c'è un aereo rosa ma non è di terra c'è con l'aereo c'è un cararmato rosa no c'è solo il panzer il panzer rosa non sembra tanto cambia unità puoi metterlo rosa c'è qualche altra unità se voglio il panzer scrauso un panzer scrauso un po' scrauso un po' rotto di seconda mano questo questo meno scrauso vai vediamo com'è eh sembra bello praticamente no un po' scrauso mi sembra è sporco e l'ho tenuto troppo in forno è venuto croccante e adesso c'è ma quello lì però proprio bontà anche delle battaglie terrestre avete la possibilità di utilizzare gli aerei ma solo per un tempo limitato e di cercare di far fuori gli aerei nemici intanto col mio leggendario psduk che chiameremo michevolmente panzerotto panzerotto sì che è buono da mangiare ecco perché poi sono appesantito è ovvio eccomi qua guardatemi cattura il punto a andiamo pianino è che non so veniva da sinistra non si fa e ma perché sono inglesi sono inglesi sono un panzer tipico panzer inglese giusto insieme al tele 5 il panzer e lei non sapeva guidare e ha tale precedenza bene guarda il caso di giustificare ora io distruggerò quest'albero venga qua che sta facendo mi sta rovinando il treno vai albero via per la disboscazione sotto distruggere qualche birch no 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 mi si rovinano il carro il carro il carro il carro non saltare raro raro eh è caduto...no le spingono no no le spingono no 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 non fai la tartaruga aaaaah le spingono aiuto 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 il culo di rimorchi Non sapevo io che non dovevo scendere Volevo ritornare Qualcuno ti mette a posto Qualcuno mi sta tagliando, veramente? Ma grazie Thanks Eccomi, aiuto, aiuto No, no, no No, no, ti sta rivoltando No Questo gioco è più bello Del fristo Si stanno andando una dosa l'altro Non mi abbandonate Non mi abbandonate Uno mi è abbandonato Tu no, tu no, sei la mia unica speranza Ecco, dai Sgancia Fammi tirare solo da quello Sganciami tu Che ha preso quell'altro? Fammi tirare solo da questo Vai, vai, vai Tira, tira di là Buon uomo Di là, vai di là No, no, no Se arriva meglio fa un pulito adesso Come non giocare a World Time Se ne è ancora ribaltato Oh, ti vai Ammusate La mia squadra Sì, siamo tutti bloccati Di adagire un altro La mia squadra Invece di stare No Ad attaccare I nemici Stiamo facendo questo Ma chi ne è venuta Gli sviluppatori Di mettere un sasso lì Recupero stradale in corso Non ci si fa Non ci si fa Dai, dai, dai Dai, dai Dai Dai, una bella botta forte Sono incastrato Ci sono incastrati Dai Faciti così Non poteva andare Questo faccio è Ma che quell'altro ancora Mi ha dato Bravo, bravo Spinge 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 Sì Sì La squadra sta catturando B Trascinandosi Dai No, cosa ho fatto Dove sono finito qua giù No Thank you Thank you Ho sganciato Ce l'abbiamo fatta L'altro, la grandezza è l'altro Poveretto Questa non è più una missione L'ho colpito L'ho colpito Pazzesco Sto andando a morire Ok, zero Piglialo, piglialo Non sparargli Piglialo Piglialo Ce l'ho Ce l'ho Vai 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 Ce l'ha Vai Ce l'abbiamo Vai Vai che lo pigliamo Vai che lo ce la facciamo Vai 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 Sì Uhuh Yeah Incredibile Ma vero Mi siete liberati entrambe Non ci credo Ok Questa partita è andata Per colpa mia No, no La colpa di quello che ti ha buttato di sotto E ti ha ribaltato Non ti sei ribaltato da solo Che siamo caduti come dei camere armati lessi No Fantastica L'alleggio sta esplodendo tutto Ok Femere armati Però il fatto di essere stati fuori L'alleggio Tutta questa fatica Per morire Incredibile Il mio equipaggio è definitivamente morto Ah eravate in tre lì dentro Sì eravamo in tre Uno più furbo dell'altro Eh sì Ce l'abbiamo Fa roba Che tragedia Una follia atroce Ma in un modo o nell'altro Secondo me Ne valsano appena Il gioco ve lo ricordiamo Assolutamente gratis Avete scaricato Il link in descrizione Grazie a tutti Per essere stati con noi E Alla prossima Con Gli Eterna Love Ciao Ciao